Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 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 Alleluia! 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 della nostra fede, l'alleluia della liberazione, l'alleluia perché colui che è stato trafitto, ucciso sulla croce, la terra non ha potuto contenerne la rovina, ma egli è risorto da morte e con lui tutto risorge. Per usare un'immagine sarebbe come pensare che l'inverno, anche il più rigido e il più drammatico, possa imprigionare in sé stesso la vita. La vita di Dio è risorta, ha vinto il momento del buio, il momento del gelo, la vita di Dio ha trionfato e nella vita di Dio che trionfa, trionfa la vita di ognuno di noi, non chiamati alla morte ma chiamati alla vita, alla vita quella vera, alla vita quella che Dio ci offre nell'eternità. La liturgia della Pasqua è un'esplosione di fiori, di candele, di paramenti, di tutto quello che vedete ed è un trionfo di voci. Il nostro coro che ha accompagnato tutta la liturgia della settimana santa ci ha fatto assaporare i momenti del dolore in Cristo e i momenti del suo trionfo. Sul Rexit Dominus Vere è stato cantato all'ingresso della messa, sì, Gesù è veramente risorto e questa è la notizia che cambia tutto, è la notizia che nessuno può imprigionare, può cancellare, è la notizia che ci rende veramente liberi e che ci rende in Gesù Cristo Signore vincitori perché se la morte è vinta nulla più può farci paura. Affidiamoci alla misericordia di Dio, guardiamo quella luce che è significativa perché ci riporta a considerare che nella notte, nella notte anche più buia, una luce rimane accesa per noi. È la luce del Cristo risorto che deve orientare la nostra vita sempre verso il bene, perché il bene, nonostante le apparenze, porta sempre alla vittoria, perché il bene si aggancia alla risurrezione e la risurrezione e la risurrezione ci porta oltre i limiti della nostra natura. Viviamo tempi veramente brutti, drammatici, guerre, sangue, scontri che si allargano, nessuno che vuole ragionare per mettere fine a queste stragi infinite. Imploriamo dal Cristo risorto che la luce della sua verità entri nella nostra esistenza e nell'esistenza di tutti i popoli, portando ciò che la Pasqua vuole donare a tutti, la vera pace di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. C'è l'ipo non fattum, voce sostanzi a empatri, fevea via partasù. Nella luce della Pasqua, che tutto pervade, nella gioia del nostro cuore, ora eleviamo la preghiera. al Cristo risorto e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, annunci al mondo con gioia e gratitudine la risurrezione del Signore e il suo messaggio sia convincente e accolto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che sono posti al servizio del bene comune, sappiano riconoscere i beni di coloro che sono più sprovvisti di aiuti materiali. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i cristiani che dubitano e per gli increduli, la festa di Pasqua susciti nei loro cuori il desiderio di avvicinarsi al Signore per comprendere che non c'è altro nome in cui si può essere salvati. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi quei riuniti, a partire dalla Pasqua del Signore, sappiamo costruire una vera comunità fraterna di fede e di carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. In questa Santa Messa vogliamo pregare per la nostra sorella Alessandra nel giorno del suo compleanno ed inoltre vogliamo ricordare i nostri cari fratelli e sorelle defunti Franco, Francesco, Mario, Luca, Fernanda e Don Alfonso. Per tutti loro noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. È il giorno di Pasqua. Il cielo è aperto su di noi. Gesù è risorto. Allora in un momento di silenzio ognuno faccia la sua bella preghiera mettendo nelle mani di Dio i suoi cari e le proprie intenzioni. O Signore celebriamo la Pasqua della Resurrezione dona al mondo la pace, la concordia, la serenità apri i cuori riempili del tuo Santo Spirito tu che vivi e regni nei secoli dei secoli e le proprie intenzioni. e le proprie intenzioni. E' superofo il tuo Santo Spirito tu che vivi e regni nelumo il tuo Santo Spirito Grazie a tutti. 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 Cantano senza fine l'inno della tua gloria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e mangiate a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. questo è il calice, questo è il calice, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, che è il calice, che è il calice, che è il calice a tutti. mistero, che è il calice. grazie a tutti. 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 Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, e ora lo dici ad ognuno di noi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. Vito all'isteccavo a voi. Vito all'isteccavo a voi. Nel Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Non sono degno di partecipare alla tua mente, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. Al termine di questa solenne celebrazione voglio ringraziare il direttore Adriano Caroletti e tutta la Cappella musicale lauretana che ha accompagnato con tanto impegno tutta la Settimana Santa e sempre le feste della nostra Chiesa parrocchiale. Grazie della vostra presenza, della proprietà dei canti che ci aiutano a pregare e ci elevano l'anima verso Dio. Poi vedete ragazzi miei che se l'orologio non mi dice male abbiamo fatto una messa cantata dall'inizio alla fine durata un'ora, anche perché il parroco giustamente ha fatto una predica dei due minuti, se recuperamo la prossima. Volevo augurare a tutti veramente di cuore una buona Pasqua e ricordarvi nel volantino che vi è stato dato che il 12 aprile il nostro coro si esibirà per noi. È sempre un momento molto bello, di altissima qualità artistica e invito tutti ad essere presenti. Poi una bella notizia per i devoti di Sant'Antonio di Pavova è che dal 22 aprile a domenica 28 aprile avremo la grazia di poter venerare qui in Chiesa le insigni reliquie del Santo di Pavova provenienti dalla Basilica di Pavova. Saranno portate dai frati della Basilica e sosteranno una settimana qui in mezzo a noi. Tutte queste pellegrinazioni di Santi le abbiamo fatte nell'ambito del bicentenario della nostra parrocchia. Così chiediamo un aiuto e un supplemento di grazia al Signore attraverso la loro intercessione. Buona Pasqua a tutti e ora la solenne benedizione. Preghiamo Proteggi sempre la tua Chiesa di Onnipotente con l'inesauribile forza del tuo amore perché rinnovati dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore Amo Inghinatevi per la benedizione In questo santo giorno di Pasqua Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda ad ogni insidia del peccato Amo Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua possiate giungere con animo esultante alle feste senza fine Amo E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amo Nel nome del Signore andate in pace Alleluia, Alleluia Preghiamo grazie a Dio Alleluia, Alleluia Buona Pasqua a tutti Preghiamo grazie a Dio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.